Il pittore sul monese Emilio Mastrangelo è tra i protagonisti della grande mostra di arti contemporanea Artisti d'Italia, dove partecipa con l'opera Natura Viva 2021 Olio su tela. La rassegna a cura di Vittorio Sgarbi è stata inaugurata ieri nella splendida Villa Reale di Monza al terzo piano Belvedere della Reggia e sarà visitabile fino al 25 aprile prossimo. La mostra è ideata e organizzata dall'associazione Lo Stato dell'Arte, in collaborazione con il consorzio Villa Reale e Parco di Monza, racconta lo stato dell'arte contemporanea in Italia con una selezione di circa 100 artisti del panorama nazionale e internazionale, accuratamente e personalmente scelti dal noto critico e storico dell'arte ferrarese. Mastrangeli, nonostante la giovane età, ha attraversato diversi periodi stilistici sviluppando ben presso uno stile personale caratterizzato dalla rappresentazione di bottiglie e oggetti stilizzati, distorti e alterati, con l'obiettivo di raggiungere l'armonia dei ritmi lineari e di colore. Per l'artista sulmonese, reduce da importanti mostre, si preannuncia una stagione ricca di altre partecipazioni a prestigiosi eventi espositivi in diverse città italiane.